Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Io vi benedica, è la Santa Vergine che protegga. Carissimi amici, siamo lodati Gesù e Maria. Ben ritrovati in un nuovo puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdalena, iscritti di Maria Valtorta. Questa è la puntata numero 33. Ricorderemo che ormai siamo verso la parte conclusiva di questi bellissimi scritti. Stiamo andando ormai appunto verso la fine. Una volta scorsa abbiamo visto una bellissima puntata dove Maria di Magdalena faceva qualche lezione anche a Simon Pietro in occasione delle esperienze post mortem di Gesù, pronta ad andare al sepolcro. Adesso questa sera ritroveremo episodi abbastanza noti perché li conosciamo dal Vangelo. L'episodio è abbastanza ampio. Vediamo se riusciamo a leggerlo tutto, altrimenti non ci corre dietro nessuno e lo riserveremo per la prossima volta. Allora, il titolo è Merita di diventare la messaggera della risurrezione. È evidente che questo episodio ci porterà all'incontro con Gesù risorto la tomba. Le donne uscite dalla casa camminano rasente al muro, ombre nell'ombra. Per qualche tempo tacciono, tutte imbacucate e paurose, di tanto silenzio e solitudine. Poi, rassicurandosi alla vista della calma assoluta che è in città, si riuniscono in gruppo e osano parlare. «Saranno già aperte le porte?» chiede Susanna. «Certo, guarda il primo ortolano che entra con le verdure. Va al mercato», risponde Salome. «Ci diranno nulla?» chiede ancora Susanna. «Chi?» domanda la Maddalena. «I soldati è la porta giudiziaria. Di lì entrano pochi ed escono meno ancora. Daremo sospetti. E con ciò ci guarderanno. Vedranno cinque donne che vanno verso la campagna. Potremmo essere anche persone che fatta la Pasqua andiamo nei nostri paesi. Però, per non dare nell'occhio a qualche malintenzionato, perché non usciamo da un'altra porta e poi giriamo rasente alle mura? Allungheremo la strada, ma saremo più sicure. Prendiamo la porta dell'acqua. Oh Salome, se fossi in te scegliere la porta orientale. Più lungo il giro dovresti fare. Occorre fare presto e tornare presto. È la Maddalena questa così recisa. Allora un'altra, ma non quella giudiziaria. «Sì, buona!» pregano tutte. «E va bene. Allora, posto che volete così, passiamo da Giovanna. Si è raccomandata di farglielo sapere. Se fossimo andate dirette si poteva fare senza. Ma poiché volete fare un giro più lungo, passiamo da lei». «Oh sì, anche per le guardie messe là. Lei è nota e temuta. Io direi di passare anche da Giuseppe e da Rimatea, il padrone del luogo». «Ma sì, facciamo un corteo adesso per non dare nell'occhio. Oh che pavida sorella che ho. Piuttosto, sai Marta, facciamo così. Io vado avanti e guardo. Voi venite dietro con Giovanna. Mi metterò in mezzo alla via se c'è del pericolo. Mi vedrete». «Torneremo indietro. Ma vi assicuro che le guardie davanti a questo, io ci ho pensato e mostra una borsa piena di monete, ci lasceranno fare tutto. Lo diremo anche a Giovanna. Hai ragione». «Allora andate che io vado». «Vai sola, Maria?» «Io vengo con te», dice Marta timorosa per la sorella. «No, no, tu va con Maria d'Alfeo da Giovanna. Salome e Susanna ti aspetteranno presso la porta dalla parte di fuori delle mura. E poi verrete per la via maestra tutte insieme. Addio». E Maria Maddalena tronca altri possibili commenti andandosene veloce con la sua borsa di balsami e le sue monete in seno. «Vola, tanto va l'esta nella strada che si fa più lieta nel primo rosario dell'Aurora. Passa la porta giudiziaria per fare più presto. Né nessuno la ferma». «Le altre la guardano andare e poi volgono le spalle alla biforcazione di vie dove erano e ne prendono un'altra, stretta e oscura, che poi si apre in prossimità del sisto in una più vasta e aperta in cui sono belle case. Si dividono ancora Salome e Susanna procedendo per la via mentre Marta e Maria d'Alfeo bussano al portone ferrato e si mostrano al finestrino che il portinaio socchiude. Entrano e vanno da Giovanna, che già alzata e tutta vestita di un viola scurissimo che la fa ancora più palli, da manipola anche essa degli oli insieme alla nutrice e ad una servente. «Siete venute, Dio ve ne compensi, ma non foste venute sarei andata da me per trovare conforto, perché molte cose sono rimaste turbate dopo quel tremendo giorno e per non sentirmi sola devo andare contro quella pietra e bussare e dire «Maestro, sono la povera Giovanna, non mi lasciare sola anche tu». Giovanna piange piano piano, ma con molta desolazione, mentre Esther, la nutrice, fa dei grandi segni indecifrabili dietro le spade della padrona, intanto che le mette il mantello. «Io vado, Esther, Dio ti conforti!» Escono dal palazzo per raggiungere le compagne. È in questo momento che avviene il breve forte terremoto che getta di nuovo nel panico i gerosolimitani, ancora terrorizzati dagli avverimenti del venerdì. Le tre donne tornano sui loro passi precipitosamente e nell'ampio vestibolo fra le serbe e i servi urlanti invocanti il Signore stanno paurose di nuove scosse». La Maddalena invece è proprio al limitare del viottolo che porta all'orto della Rimatea quando la coglie il boato potente e pure armonico di questo segno celeste, mentre nella luce appena rosata dell'aurora che si avanza nel cielo, dove ancora occidente resiste una tenace stella che fa bionda l'aria, fino alla verdolina si accende una grande luce che scende come fosse un globo incandescente, splendidissimo, tagliando a zigzag l'aria quieta. Io vorrei fare un piccolo pit stop, semplicemente per far notare una cosa, che i Vangeli riportano questi terremoti e precisamente i terremoti alla morte di Gesù ce ne sono stati due. Uno al momento della morte di Gesù e uno al momento della risurrezione. San Matteo ci dice che c'è stato questo terremoto al momento della morte di Gesù. Gesù ha messo un altro chito stirò, leggo i versetti 27, 50, 54. Ed ecco il vero del tempio si scorciò in due da cima a fondo, la terra si scosse e le rocce si spezzarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi morti risuscitarono e uscendo dai sepolcri dopo la risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli con lui facevano la guardia, Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e gridarono. Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Questo ce lo riporta San Matteo. Ma sempre San Matteo dice nel capitolo seguente, nel 28, il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magda e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo, si accostò, rotrò la pietra e si pose sedere su di essa. Due terremoti. Uno la morte, uno la risurrezione. È chiaro che non sono casuali. Due terremoti. Al primo terremoto addirittura risurgono i morti, dice San Matteo. E al secondo terremoto, il secondo terremoto annuncia il risorto con la R maiuscola. Quindi il terremoto è un evento sconvolgente, cioè stanno succedendo degli eventi sconvolgenti. Degli eventi dinanzi al quale la natura stessa dà una risonanza di risposta di questo calibro. È importante notarlo. E farci attenzione. E farci attenzione, scusate. Allora, Maria di Magda è quasi sfiorata e rovesciata al suono. Si curva un momento, formulando Mio Signore e poi si raddrizza con uno stelo dopo il passare del vento e ancora più ratta corre verso l'ottaglia. Vi entra veloce, andando come un uccello inseguito e cercante il nido, verso il sepolcro di roccia. Ma per quanto vada veloce, non può essere là quando la celeste meteora fa da leva e da fiamma sul sito di calcina messa in forzo del pesante pietrone, né quando con fragore finale la porta di pietra cade, dando uno scodio che si unisce a quello del terremoto, che sia breve di una violenza tale che atterra le guardie con la morte. Maria, sopraggiungendo, vede questi inutili carcerieri del trionfatore, gettati al suolo con un fascio di spighe falciate. Maria Maddalena non riconnette il terremoto con la risurrezione, ma vedendo quello spettacolo, crede che sia il castigo di Dio sui profanatori del sepolcro di Gesù e cade a ginocchio dicendo, ahimè, lo hanno rapito. È veramente desolata e piange come una bambina che sia venuta sicura di trovare il padre cercato e trovi invece vuota la dimora. Poi si alza e corre via per andare da Pietro e Giovanni e dato che più non pensa che ad avvisare i due, non ricorda di andare incontro alle compagne, di arrestarsi sulla via, ma veloce come una gazzella ripassa per la strada già fatta, supera la porta giudiziaria e vola per le strade che sono un poco più animate. Si abbatte contro il portone della casa ospitale e lo batte e lo scuote furiosamente. Le apre la padrona. Dove sono Giovanni e Pietro? chiede affannoso a Maria Magdalena. Là e la donna indica il cenacolo. Maria di Magdala entra e appena è dentro davanti ai due stipidi dice, e nella voce tenuta bassa per Pietro della madre è più affanno che se avessero lato, dice hanno portato via il Signore dal sepolcro, chissà dove l'hanno messo e per la prima volta traballa e vacilla e per non cadere si afferra dove può. Ma come? Che dici? chiedono i due. E lei con affanno. Sono andato avanti per comprare le guardie perché ci lasciassero fare e loro sono là come morte. Il sepolcro è aperto, la pietra per terra. Chi? Chi sarà stato? Oh venite, corriamo. Pietro e Giovanni si avviano subito. Maria li segue per qualche passo, poi torna indietro. afferra la padrona di casa, la scrolla, violenta nel sopravvidente amore, le fischia in volto. Guardati bene da far passare nessuno da lei. E accenna la porta della stanza di Maria. Ricordati che io sono la tua padrona, ubbidisci e taci. E poi la lascia sterrefatta e raggiunge gli apostoli che a gran passi vanno verso il sepolcro. Susanna e Salome, intanto lasciate le compagnie e raggiunte le mura, vengono colte dal terremoto. Impaurite si rifugiano sotto una pianta e stanno là combattute fra la smania di andare verso il sepolcro e quella di scappare verso Giovanni. Ma l'amore vince la paura e vanno verso il sepolcro. Entrano ancora sbigottite nell'ortaglia e vedono le guardie tramortite. Vedono una grande luce uscire dal sepolcro aperto. Si aumenta il loro sbigottimento e finisce di farsi completo quando, tenendosi per mano per farsi coraggio, si affacciano sulla soglia e nel buio della grotta sepolcare vedono una creatura luminosa e bellissima, dolcemente sorridente. Salutarle dal posto dove sta, appoggiata a destra della pietra dell'unzione che si annulla col suo grigio, dietro a tanto incandescente splendore cadono a ginocchi sbalordite di stupore. Ma l'angelo dolcemente parla a loro. Non abbiate timore, sono l'angelo del divino dolore, sono venuto per bearmi della fine di esso. Più non è il dolore del Cristo, il suo avvinimento nella morte. Gesù di Nazareth, il crucifisso che voi cercate, è risorto, non è più qui. Vuoto è il posto dove erate posto. Giubilate con me, andate, Dite a Pietro e ai discepoli che egli è risorto e vi procede in Galilea. Là lo vedrete ancora per poco, secondo che ha detto. Le donne cadono col volto a terra e quando lo alzano, fuggono come fossero inseguite da un castigo. Sono terrorizzate e mormorano. Ora moriremo, abbiamo visto l'angelo del Signore. Si calmano un po' in aperta campagna e si consigliano. Che fare? Se dicono ciò che hanno visto, non saranno credute. Se dicono anche di venire di là, possono essere accusate da giudei di aver ucciso le guardie. No, non possono dire nulla. Né agli amici, né ai nemici. Pavide, ammutolite, tornano da altra via verso casa. Entrano e si rifugiano nel cenacolo. Neppure chiedono di vedere Maria. E là pensano che quanto hanno visto non sia con inganno del demonio. Umini come sono, giudicano che non può essere che a loro sia stato concesso di vedere il messo di Dio. E' Satana che le ha volute impaurire per allontanarle di là. Piangono e pregano come due bambine impaurite da un incubo. Allora, quindi queste sono, faccio un'altra piccola sosta. Susanna e Salome, che secondo gli scritti di Maria Valtorta, sono le destinatari dell'annuncio dell'angelo. Siamo sempre nel mangiare di Matteo. Secondo San Matteo, vedete, un angelo del Signore è sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Qui Maria Valtorta si dice che è l'angelo del sollievo, l'angelo del dolore, quello che fu mandato da Dio, come ci informa l'angelo di Luca, nel Gezzemani, durante l'agonia, gli apparve allora un angelo del cielo a confortarlo, e che ora dà l'annuncio della risurrezione. E le donne terrorizzate, questo per la verità ce lo dice Marco, con più precisione, più che Matteo, perché Matteo salta la fase della paura e passa direttamente a dire che le donne annunciano la risurrezione. Invece è l'evangelista Marco che ci dice, appunto nel capitolo sedicesimo, subito dopo l'apparizione, non abbiate paura, vedete, tra l'altro Marco è più preciso perché videro un giovane seduto sulla destra, entrate nel sepolcro, mentre secondo San Matteo l'angelo sta seduto sulla pietra. Non bisogna badare a queste cose, però questa narrazione è quella confermata da Maria Valtorta. Ed esse uscito fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. La realizzazione di San Marco, attenzione che San Marco è la penna di Pietro, è proprio letterale. Erano Susanna, Susanna per chi non lo sapesse è la sposa delle nozze di Cana, poi è diventata discepola, e Salome, Maria Salome, è la madre dei figli di Zebedeo, cioè di San Giacomo, il Maggiore, Giacomo di Zebedeo e San Giovanni Evangelista, l'apostolo vergine, il prediletto di Gesù. Il terzo gruppo, quello di Giovanna, Maria D'Alfeo e Marta, quindi Giovanna e Giovanna di Cusa, la moglie di Cusa, amministratore di Rode Antifa. Maria D'Alfeo è la madre dei cugini di Gesù, Giacomo Giuda, la moglie del fratello di San Giuseppe, D'Alfeo, e Marta è la sorella di Maria di Magdala. Quindi questo terzo gruppo, visto che nulla succede di nuovo, si decide di andare là dove certe le compagnie attendono. Escono nelle strade, dove ormai vi è gente impaurita che commenta il nuovo terremoto e lo ricollega a fatti del venerdì e vede anche quello che non c'è. Meglio se sono tutti spauriti, forse lo saranno anche le guardie, non faranno eccezione, dice Maria D'Alfeo, e vanno svelte verso le mura. Ma mentre loro vanno là, all'ortaglio sono già giunti Pietro e Giovanni, seguiti dalla Maddalena. Particolare che ci viene detto stavolta l'Avangelo di San Giovanni. Maddalena va, annuncia che hanno portato via il mio signore, non sappiamo dove abbiano posto, e partono in corsa Pietro e Giovanni e arrivano al sepolcro. Giovanni più svelto giunge per primo al sepolcro, le guardie non ci sono più e più non c'è l'angelo. Scena veramente impegnativa. Giovanni si inginocchia, timoroso e dolente, sulla soglia spalancata e per venerare e per cogliere qualche indizio dalle cose che vede. Ma non vede che ha mucchiati per terra i pannilini messi sopra la sindone? Non c'è proprio Simone. Ma lì ha visto bene. Vieni, entra, guarda. Pietro col fiato grosso per il gran correre fatto entra nel sepolcro. Aveva detto per via, io non oserò costarmi a quel posto, ma ora non pensa altro che a scoprire dove può essere il maestro. E lo chiama anche come egli potesse essere nascosto in qualche angolo buio. L'oscurità in quest'ora mattutina è ancora forte nel profondo del sepolcro, a cui dà luce solo la piccola apertura della porta, cui ora fanno ombra Giovanni e la maddalena. E Pietro ostenta a vedere e deve aiutarsi con le mani a vedere. Tocca e trema il tavolo dell'unzione e lo sente vuoto. Non c'è Giovanni, non c'è, o vieni anche tu. Io ho tanto pianto che non ci vedo quasi in questa poca luce. Giovanni si alza in piedi ed entra e mentre lo fa, Pietro scopre il sudario posto in un angolo, ben piegato e con dentro la sindone arrotolata con cura. Lo hanno proprio rapito. Le guardie erano non per noi ma per fare questo, e noi l'abbiamo lasciato fare. Con l'andarsi non l'abbiamo permesso. Oh, dove l'orano messo? Pietro, Pietro, ora è proprio finita. I due discevoli escono annientati. Andiamo, donna, tu lo dirai alla madre. Dicono a me di Magdala. E lei? Io non vengo via, sto qui. Qualcuno verrà. Oh, io non vengo. Qui c'è ancora qualcosa di lui. Aveva ragione alla madre. Respirare l'aria dove egli fu è l'unico sollievo che ci resta. L'unico sollievo. Ora lo vedi tu pure che era folla a sperare, dice Pietro. Maria neppure risponde. Si accascia al suolo, proprio presso la porta, e piange, mentre gli altri vanno via lentamente. Quindi faccio un altro piccolo pit stop. Vedete che Maria di Magdala, che l'abbiamo visto la volta scorsa, reggere quasi fino all'ultimo nella fede, e qui chiaramente si capisce che c'ha un crollo anche lei. quindi non ha pensato a dare il giusto significato al terremoto e alla tomba vuota. Sapete che queste sono le prediche che noi poveri predi facciamo durante l'ottava di Pasqua, no? Cose molto importanti, perché Dio ci parla sempre così. Che cosa è stata? La risurrezione è stato un evento, giusto? Un evento che non ha visto nessuno, nessuno ha visto risorgere Gesù, sono gli angeli. Nessuno. Certo, dopo la risurrezione Gesù si è manifestato in vari modi, però il contatto con l'evento è stato un contatto, il classico contatto di fede. E la fede, dice San Paolo, viene dalle orecchie, dalla parola udita. Che cosa sto intendendo? Gesù aveva detto, io vado a Gerusalemme, tre volte, sarò fagellato, con un lato di spine, crocifisso, di una morte orrenda e morirò, ma al terzo giorno gli succederò, punto e basta. Ora che succede? Terremoto, pietra rotolata e tomba vuota. Qual è la prima cosa che dovresti pensare? È risorto. Ce l'aveva detto, ma nessuno l'ha visto però. Vedete, anche Maria di Magdala, anche la grande leonessa, anche la grande credente, la grande fedele, alla fine vacilla. Perché l'unica che non ha vacillato fino alla fine, nella fede, che ha conservato la fede, questa è la dottrina unanime della tradizione patristica, è Maria. Santissima. Vedete anche la risposta di Pietro, no? L'unico sollievo, ora lo vedi tu pure che era folla a sperare. Però, e qui interviene la grande, la meravigliosa di Sangio di Romagno, sull'episodio, appunto, evangelico di Maria, che rimane al sepolcro e poi incontra Gesù, che, appunto, dirà, Sangio di Romagno, che il suo rimanere è lì. Dice, la fede è venuta meno, ma l'amore no. Vedete, la grande arma di Magdala, abbiamo visto, l'innamorata, è rimasta lì, perché è innamorata, non si è scollata, e adesso vedremo quello che è successo, lo sappiamo già dai Vangeli, però ce lo andiamo a a rigustare. Maria neppure risponde, rimane lì, si accascia verso la porta e piange, mentre gli altri vanno via lentamente. Poi alza il capo e guarda dentro, e fra le lacrime vede due angeli seduti a capo e a piedi della pietra dell'unzione. È tanto intontita la povera Maria, che nella sua più fiera battaglia tra la speranza che muore e la fede che non vuole morire, che li guardi nebbietiti senza neppure stupirsene. Non ha più altro che le lacrime, la forte che ha tutta resistito, dà e rovina. Perché piangi, donna? Chiede uno dei tuoi luminosi fanciulli, perché gli adolescenti bellissimi hanno l'aspetto. Perché hanno portato via il mio signore e non so dove me lo hanno messo. Maria non ha paura a parlare con loro, non chiede chi siete. Nulla, nulla più a far stupore. Tutto quanto può stupire una creatura e l'ho già subito. Ora non è che è una cosa spezzata che piange senza vigore e ritegna. Il giovinetto angelico guarda il compagno e sorride. E l'altro pure. E in un balenare di letizia angelica ambedue guardano fuori verso loro taglie tutta in fiore per i milioni di corolle che si sono aperte al primo sole sui meli fitti del pomido. Maria si volta per vedere chi guardano e vede un uomo bellissimo che non so come non possa riconoscere subito. Un uomo che la guarda con pietà e le chiede Donna, perché piangi? Chi cerchi? È vero che è un Gesù offuscato dalla sua pietà verso la creatura che le troppe emozioni hanno sfinita e che potrebbe morire per improvvisa gioia ma proprio mi chiedo come possano riconoscerlo. E Maria fra i singhiozzi mi hanno preso il Signore Gesù ero venuta per imbalsamarlo in attesa che sorgesse ho tenuto raccolto tutto il mio coraggio e la mia speranza e la mia fede intorno al mio amore e ora non lo trovo più anzi ho messo il mio amore intorno alla fede e alla speranza e al coraggio per difendere questi dagli uomini ma è tutto inutile gli uomini hanno rubato il mio amore e con esso tutto mi hanno levato o mio Signore se sei tu che lo hai portato via dimmi dove l'hai messo ed io lo prenderò non lo dirò a nessuno sarà un segreto fra me e te guarda sono la figlia di Teofilo la sorella di Lazzaro ma ti sto in ginocchio davanti a sopplicarti come una schiava vuoi che ti compri il suo corpo lo farò quanto vuoi sono ricca posso darti tanto oro e gemme per quanto esso pesa ma rendimelo non ti denuncerò vuoi percuotermi fallo a sangue se vuoi se hai un odio per lui fallo scontare a me ma rendimelo oh non mi fare povera di questa miseria o mio Signore pietà di una povera donna per me non vuoi per sua madre allora dimmi dimmi dove è il mio Signore Gesù sono forte lo prenderò fra le braccia e lo porterò come un bambino in salvo Signore Signore tu lo vedi da tre giorni siamo percossi dall'ira di Dio per quello che fu fatto al figlio di Dio non aggiungere profanazione a delitto Maria Gesù sfavilla nel chiamarlo si svela nel suo fulgore trigonfante Raboni il grido di Maria è veramente il grande grido che chiude il ciclo della morte col primo le tenebre dell'odio fasciarono la vittima di bende funebre col secondo le luci dell'amore aumenteranno il suo splendore e Maria si alza nel grido che empie l'ortaglia corre ai piedi di Gesù li vorrebbe baciare Gesù l'ascosta toccandola appena col sommo delle dita presso la fronte non mi toccare non sono ancora salito al padre mio con questa veste va dai miei fratelli e amici e di loro che io salgo il padre mio e il padre vostro Dio mio e Dio vostro e poi verrò da loro e Gesù scompare assorbito da una luce insostenibile Maria bacia il suolo dove egli era e corre verso casa entra come un razzo perché il portone è socchiuso per dare passaggio al padrone che esce per andare alla fonte apre la porta della stanza di Maria e le si abbandona sul cuore gridando è risorto è risorto e piange beata e mentre accorrono pietre Giovanni e dal cenacolo avanzano le spaurite Salone e Susanna e ascoltano il suo racconto ecco entrare anche dalla via Maria d'Alfeo con Marta e Giovanna che a fiato mozzo dicono di essere anche loro state là di avere visto due angeli che si dicevano il custode dell'uomo Dio e l'angelo del suo dolore e che hanno dato loro l'ordine di dire ai discepoli che egli era risorto e poiché Pietro scrolla il capo insistono dicendo sì hanno detto perché cercate il viviente tra i morti egli non è qui è risorto come disse quando era ancora in Galilea non ricordate disse il figlio dell'uomo deve essere dato nelle mani dei peccatori ed essere crocifisso ma il terzo giorno li succederà Pietro scrolla il capo dicendo troppe cose in questi giorni ne siete rimaste turbate la maddalena alza il capo dal petto di Maria e dice l'ho visto gli ho parlato mi ha detto che sarà il padre e poi viene com'era bello e piange come non ha mai pianto ora che non ha più da torturare se stessa per fare forza contro il dubbio sorgente da ogni lato ma Pietro e anche Giovanni restano molto dubbiosi si guardano ma il loro occhio dice immaginazione di donne anche Susanna e Salome osano allora parlare ma la stessa inevitabile diversità nei particolari delle guardie che prima ci sono come morte e poi non ci sono degli angeli che ora sono uno e ora due e che gli apostoli non si sono mostrati del due versioni sul venire qui di Gesù o sul precedere di sua in Galilea fa sì che il dubbio e anzi la prestazione degli apostoli cresca sempre di più Maria la madre beata tace sorreggendo la maddalena non comprende il mistero di questo silenzio materno Maria dal feo dice a Salome torniamo là noi due vediamo se siamo tutte ebbre e corrono fuori le altre restano pacatamente delise dai due apostoli presso Maria che tace assorte in un pensiero che tutti interpretano a modo loro e nessuno comprende che è estasi tornano le due attempate donne e dicono è vero è vero noi l'abbiamo visto ci ha detto presso l'orto di Barnaba la pace a voi non temete andate a dire ai miei fratelli che sono risorto e che vadano fra qualche giorno in Galilea la staremo ancora insieme così ha detto Maria ha ragione bisogna dirlo a quelli di Betania a Giuseppe Nicodemo ai discevoli più figli ai pastori andare fare fare oh è risorto vengono tutte beate folli siete donne il dolore vi ha turbato la luce vi è apparsa angelo il vento voce il sole il Cristo io non vi critico vi capisco ma non posso credere che a ciò che io ho visto il sepulcro aperto e vuoto e le guardie fuggite col cadavere inviolato ma se lo dicono le guardie stesse che è risorto se la città è in sul buglio e i principi dei sacerdoti sono folli di ira perché le guardie hanno parlato fuggendo esterrefatte ora vogliono che dicano diverso e le pagano perciò ma già si sa e se i giudei non credono alla risurrezione non vogliono credere molti altri credono le donne Pietro alza le spalle e fa per andarsene allora la madre che ha sempre sul cuore la maddalena che piange come un salice sotto un'acquata per la sua troppo grande gioia e che la bacia sui capelli biondi alza il viso trasfigurato e dice una breve frase è realmente risorto io l'ho avuto fra le braccia e ne ho baciato le piaghe e poi si curva sui capelli dell'appassionata e dice sì la gioia è ancora più forte del dolore ma non è che una briciola di rena di quello che sarà il tuo oceano di gioia eterna te beata che sopra la ragione hai fatto parlare allo spirito bellissimo il complimento che la madonna fa a Maria di Magdala meraviglioso sopra la ragione hai fatto parlare allo spirito meraviglioso veramente stupendo Pietro non osa più negare e con uno di quei trapassi del Pietro antico che ora ritorna ad affiorare dice e urla come se dagli altri non da lui divendesse ritardo ma allora se è così bisogna farlo sapere agli altri a quelli dispersi per le campagne cercare fare su muovetevi se dovesse proprio venire che ci trovi almeno e non si accorge che ancora confessa di non credere ciecamente alla sua risurrezione qui finisce il brano e adesso c'è il commento di nostro signore Gesù Cristo che ce l'andiamo a gustare le preghiere ardenti di Maria ecco questo standing ovation Maria ovviamente di Magda non di Magdala ma Maria di Nazareth hanno anticipato di qualche tempo la risurrezione io avevo detto il figlio dell'uomo sta per essere ucciso ma il terzo giorno risorgerà ero morto alle tre del pomeriggio di venerdì sia che calcoliate i giorni come nome sia che li calcoliate come ore non era l'alba domenicale quella che doveva vedermi sorgere come ore erano unicamente 38 invece di 72 quelle che il mio corpo era rimasto senza vita come giorni doveva almeno aggiungere la sera di questo terzo giorno per dire che lo stavo tre giorni nella tomba ma Maria ha anticipato il miracolo come quando col suo orare ha schiuso i cieli con anticipo di qualche anno sull'epoca prefissa per dare al mondo la sua salvezza così ella ora ottiene l'anticipo di qualche ora per dar conforto al suo cuore morendo qui Gesù ne dice una meravigliosa e poi tra l'altro non dice la terza che però la dicono i Vangeli il potere di Maria Santissima la forza della sua preghiera e del suo amore anticipa di qualche tempo l'incarnazione anticipa di qualche tempo la risurrezione anticipa l'ora del compimento dei miracoli alla nozze di cana è evidente questo qui no? che ho da fare contro io donna non è ancora giunta la mia ora il grande potere della Madonna è così comprendiamo perché è così importante essere le devote essere le strette essere le uniti perché è il segreto del miracolo ed io alla prima alba del terzo giorno sono sceso come il sole che scende nel mio fulgore ho sciolto i sigilli umani così inutili davanti alla potenza di un dio della mia forza ho fatto leva per ribaltare l'inutilmente vegliata pietra del mio apparire ho fatto fulgore che ha atterrato le tre volte inutili guardie messe a custodio di una morte che era vita che nessuna forza umana potrebbe impedire di essere tale e vado dalla madre è ben giusto che ci vada lo è stato per i miei angeli ben di più lo è per quella che oltre che mi ha gustato e conforto mi è stata adattrice di vita prima ancora di tornare al padre nella mia veste l'uomo purificato vado dalla madre vado nel fulgore della mia veste paradisiaca e delle mie geme vive ella mi può toccare ella le può abbaciare perché ella è la pura la bella l'amata la benedetta la santa di Dio quindi capite che ci dice qui Gesù la Madonna lo ha toccato ma lei poteva farlo non era ancora andato nella veste di uomo glorificato dal padre quindi non si era ancora presentato in cielo non era l'ascensione al cielo ovviamente no quindi il distacco definitivo della presenza sensibile di Gesù dalla terra però Gesù risorto si è presentato altro aspetto del padre lo dice il Vangelo di San Giovanni vedete che qui in scrittivo al tortiani è riportata la versione tradizionalmente cattolicissima della vulgata non li metangere non non mi trattenere come traduce adesso la versione italiana della della CEI no no non mi toccare non 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 mi trattenere non mi devi proprio toccare Gesù il gesto che con toccandola levemente con tre ditte sulla fronte le impedisce di fare quello che Maria di Magdala sempre faceva il bacio ai piedi ma la Madonna le ha baciate tutte le piaghe comprese quella del cuore lei poteva Maria di Magdala no e adesso Gesù ci spiegherà perché il nuovo Adamo va a leva nuova il male è entrato nel mondo per la donna e dalla donna fu vinto il frutto della donna ha disintossicato gli uomini dalla bava di Lucifero ora se vogliono possono essere salvi ha salvato la donna rimasta così fragile dopo la ferita mortale e dopo che alla pura alla quale per diritto di santità e di maternità è giusto vada il figlio di Dio il figlio Dio mi presento alla donna redenta alla capostipite alla rappresentante di tutte le creature femmine che sono venuto a liberare dal morso della lussuria perché dica ad esse che si accostino a me per guarire che abbiano fede in me che credono le mie misericordie che comprende e perdona che per vincere Satana che fruga loro le carni guardino la mia carne ornata dalle cinque ferite non mi faccio toccare da lei ella non è la pura che può toccare senza contaminarlo il figlio che torna al padre no vedete la grande Maria di Magdala la grande innamorata collega che ha chiesto il martirio dell'amore e l'ha ottenuto però cosa dice Gesù ella non è la pura che può toccare senza contaminarlo il figlio che torna al padre molto ha ancora da purificare con la penitenza vedete no grande misericordia certo che grande misericordia ha messo ad un grande rapporto d'amore con Gesù è certo però tu ancora non mi tocchi c'è da fare tanta penitenza discorso che i moderni vogliono via capirlo veramente sarebbero i modernisti che non vogliono capirlo c'è da fare la penitenza molto ancora da purificare e molto avrebbe purificato vedremo quando arriveremo ormai tra non molto al racconto del trapasso di Maria di Magdala non manca molto alla fine siamo nella versione digitale a pagina 352 su 380 quindi a breve questo ciclo lo consegneremo alla storia quindi molto ha ancora da purificare con la penitenza ma il suo amore merita questo premio e l'ha saputo risorgere per sua volontà dal sepolcro del suo vizio strozzare Satana che la teneva sfidare il mondo per amore del suo salvatore ha saputo spogliarsi di tutto ciò che non fosse amore ha saputo non essere più che amore che si consuma per il suo Dio e Dio la chiama Maria odila rispondere Rabonì via il suo cuore in quella era a lei che l'ha meritato do l'incarico di essere messaggera della risurrezione e ancora una volta sarà un poco schernita come avesse vaneggiato ma non le importa nulla a Maria di Magdala a Maria di Gesù del giudizio degli uomini mi ha visto risorto e ciò le dà una gioia che atturisce ogni altro sentimento vedi come amo anche chi fu colpevole ma volle uscire dalla colpa neppure a Giovanni io mi mostro per primo ma alla Magdalena Giovanni aveva già avuto il grado di figlio da me lo poteva avere perché era puro e poteva essere figlio non solo spirituale ma anche Dante e ricevente alla e dalla pura di Dio cui bisogna in quelle cuore che sono connessi alla carriera Magdalena la risorta alla grazia alla prima visione della grazia risorta bellissimo la risorta alla grazia alla prima visione della grazia con la G maiuscola risorta ecco le bisogni di oggi che dire a conclusione di queste cose a lei che l'ha meritato sull'incarico di essere messaggera della risurrezione l'ha meritato ma ancora non può toccare Gesù deve fare penitenza ecco perché Maria di Magdalena è chiamata dalla tradizione della chiesa la penitente che avrebbe fatto illuminata avrebbe compreso si ritira nella grotta di Marsiglia e lì passa una vita di penitenza dove poi muore come vedremo una storia veramente edificante e attenzione Gesù dice io non mi mostro neppure a Giovanni l'apostolo vergine l'apostolo puro e dobbiamo comprendere questi grandi misteri come mai che Maria di Magdalena ha saputo strozzare Satana risorgere per sua volontà dal sepolcro e dal suo vizio sfidare il mondo spogliarsi di tutto solo per il suo immensa amore Maria di Magdalena l'attestato saranno contenti gli esponenti della teologia francescana che investono tutto sulla teologia dell'amore è la prova vivente dei miracoli che può produrre un amore sincero e profondo e ardente verso Gesù anche se la situazione dell'anima è ancora in cammino e soprattutto in cammino penitenziale per la doverosa purificazione bene possiamo concludere ci vedremo alla prossima puntata che Dio vi benedica tutti e la Madonna vi protegga laudentur Gesù 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 grazie a tutti